Musica Ragazzi in attimo, prima della direzione oggi parliamo di una regola aurea Un'altra regola, quante regole? La regola è il 5, sempre matematica La regola delle 5 porzioni prevede almeno 2 porzioni di verdura e 3 porzioni di frutta ogni giorno Almeno 400 grammi Una pera, una mela, tracicocche, la frutta, la sussacchina, ma anche una coppetta di acidone e un piatto di insalata Quante verdure sono rinché di fibre, di vitamine, di minerali, di angiossidanti E anche di sostanze che proteggono dall'invezzamento e da un'invezzamento e da un'invezzatura e da un'invezzatura Questa regola ci piace La regola è il 5 e prevede anche 5 toni Questa regola la conosciamo Blu, viola come pugni, miltini, melanzane, radicchia, lampone Sono alimenti vecchi, gianto, cianina, vitamina C, potassio e magnesio Verde come kiwi, spinaci, zucchine Diete, broccoli, inciato, guadagno Contenbo, l'acido fuori Magnesio, vitamina C e l'utino Bianco come aglio, cavolfiori, cipolle Fulghi, mel, pari e pari Garantiscono un apporto di polifenoli e flavonoidi Cosassio, compostos alcorato Vitamina C, selenio Giallo come carota, albicocca e zucca Sono ricchi di betacarotene e flavonoidi Vitamina C e potassio Rosso come, anguri, barbabietti, ciliegie Regola e pomodori Regola e rosso alla maniera Perché contengono l'icomene e l'antusione Andiamo in frutteria, non andiamo in farmacia Finalmente è una buona regola Che modo diamo queste regole? Diecentote Grazie a tutti Grazie a tutti